Musica Mistero complimenti avete tenuto testa alla grande a una squadra come l'Ascoli che punta in alto quest'anno nel campionato di Serie B anche voi siete ambiziosi in attesa all'inizio del campionato un buon testo Sì è stata una bellissima partita giocata bene da entrambi le squadre perché l'Ascoli è una squadra ben messa in campo, organizzata, Livarini è un ottimo allenatore e quindi è importante che nessuno si facesse male in questo amichevole da parte nostra abbiamo tenuto testa quando c'era da giocare abbiamo sempre giocato considerando anche che abbiamo fatto tanti cambi e quindi ho dovuto far giocare un po' tutti quindi gli ultimi 20 minuti sono stati un po' spezzettati però sono contento della prestazione dei ragazzi Quanta voglia avete di iniziare questo campionato nel caos generale anche perché avete davvero una bella squadra? Sì a parte che abbiamo iniziato dal 14 luglio e non si è mai visto due mesi di preparazione Speriamo che si risolva tutto la settimana prossima e che questi ragazzi parlano a nome di tutte le squadre di tutti gli allenatori se possa iniziare il campionato perché inizia ad essere logorante allenarti senza la prestazione della domenica